carissimi amici siamo tornati insieme per un nuovo e una nuova puntata del ciclo di catechesi sull'antico estamento come tutte quante le catechei sulla saga scrittura ovviamente sono particolarmente belle perché la saga scrittura come tutti ben sappiamo è la fonte primaria della rivelazione e poi questa sera amici abbiamo un capito a me personalmente enormemente caro perché andremo a gustarci almeno in parte la vincente saga del profeta Elia ora prima di andare ad Elia dobbiamo un attimo inquadrare un pochino il contesto storico perché passo un attimo metto un attimo la visualizzazione doppia con con lo schema che abbiamo già visto però dobbiamo riprenderlo spero che lo schermo si veda collaboratori miei ecco se c'è qualche problema potremmo sapere si dovrebbe vedere lo schermo condiviso in diretta e abbiamo visto questa è torniamo all'introduzione sull'antico testamento no e noi siamo arrivati abbiamo fatto creazione adamo peccato originale noè abramo isacco giacobbe giuseppe mosè ed esodo giosuè il regno dei giudici la storia di samuele poi saul davide saromone a questo punto la sagra scrittura vedete libri dei re delle cronache procede con appunto i libri dei re e delle cronache all'interno dei quali oltre tutta quanta la storia che comincia con l'evento drammatico proprio questo è il primo capitolo dopo la morte di salomone che l'abbiamo visto la volta scorsa dove c'è la scissione del regno in due come profetizzato roboamo e geroboamo si fronteggiano l'uno con l'altro il regno di israele si divide in due tra legittimo successore di davide salomone e il primo degli usurpatori chiaramente il regno dei discendenti legittimi davide salomone si sposta al sud di giudea ecco perché giudano la tribù legale e ancora ai tempi di gesù c'erano ancora i giudei quindi il regno di samaria o regno del nord e il regno di giuda subito in questo contesto vedremo che molto presto appare il profeta elia e la storia di elia è appunto narrata nel primo libro dei re subito dopo quella di elisea e a questo la storia sagra è attraverso delle tappe drammatiche la distruzione di israele per esempio il regno del nord e l'evento drammatico da parte degli assiri e poi arrivano i babilonesi distruggono il tempio e distrugge il radonazzolo gerusalemme e portano gli ebrei in esilio quindi noi vedremo chiaramente non facciamo tutte quante le tappe del regno a un certo punto questi libri diventano libri di storia sagra e si intersecano con un altro tema che sarà un altro ciclo di catechesi che è la predicazione dei profeti che interagiscono con questi eventi storici cercando di chiamare a conversione per evitare gli incombenti e sempre nuovi disastri sul popolo di israele noi però andremo diciamo un pochino spediti e riprenderemo poi il tutto quando arriviamo sulla slide seguente poi ci sono i persiani vorrei forse fare un incontro che vale la pena su Esdra e Nemia quindi dire qualcosa su questo dopodiché noi ci riprenderemo dai libri di Maccabèi e faremo anche a conclusione del nostro ciclo ecco delle bellissime considerazioni su due libretti tre libretti molto modificanti che chiudono proprio l'Antico Testamento diciamo così la raccolta di libri prima dei sapienziali perché poi è il secondo grande gruppo con i sapienziali che sono Tobia Esther e Giuditta che sono tre libretti veramente modificanti questo è un po' il percorso che ci attende vorrei un attimo introdurlo perché terminata appunto questa grande sezione dedicata che praticamente noi finiamo con la storia dei re a Salomone perché non finisce più andremo ripetere qualcosa perché è molto importante ci sono dei passaggi significativi in Esdra e Nemia quindi probabilmente dopo Elie ed Eliseo faremo un incontrino su questi prima di passare poi ai molto edificanti libri dei Maccabèi veramente spettacolari e poi vedere un po' questi tre libretti parenetici e meravigliosi con cui si chiude diciamo la parte dell'Antico Testamento non profetico sapienziale ecco diciamo così noi facciamo una divisione di questo tipo gli ebrei avevano la Torah di Nevi'im e Ketu'im pensi di averlo detto la Torah erano i cinque libri del Pentateuco i Nevi'im in ebraico significa profeta erano i profeti e Ketu'im Katav in ebraico significa scrivere Ketu'im significa scritti cioè tutti quanti gli altri scritti al di fuori del Pentateuco e dei profeti questi compongono il canone ebraico dell'Antico Testamento che noi abbiamo nella versione che vedrete anche che vedrete sempre anche a fronte del mio software che era la più autorevole dell'Antico Testamento che era Stuttgartensia mentre per il Nuovo Testamento se non ci interessa però per chi volesse insomma attingere le punti oltre che alla vulcata che vale sia per l'Antico che per il Nuovo per il Nuovo Testamento il testo di riferimento più attendibile per quanto riguarda il greco è il Nestlé-Aland vabbè queste sono cose che i detti lavori le sanno benissimo mi ho detto che la vuole forse non so ne che cos'è quindi vogliate perdonarmi allora andiamo chiudiamo questa slide e passiamo a chiudiamo la scheda corrente andare a vedere qualcosa su Elia prima volevo fare vabbè forse no allora Elia occupa vedete diversi capitoli dal capitolo diciassettesimo del primo libro del re dove arriva al secondo capitolo del secondo libro del re dove c'è il transito di Elia voi sapete che Elia come vedremo insieme a Enoch sono quei due personaggi biblici la cui sorte è stata del tutto singolare questi non sono né morti né guidificati perché non si sa che fine hanno fatto quindi Elia come vedremo è stato rapito su questo carro di fuoco quindi non è passato per la morte così come quel personaggio misterioso che abbiamo visto a suo tempo che è Enoch e Elia ed Enoch sono quei personaggi di cui misteriosamente in altri parti della Bibbia si narra che compariranno in certi momenti però non si capisce se questa è una comparsa reale una comparsa simbolica voi capite bene che su queste cose si sono scervellati i fior di Esegeti bisogna essere sempre molto 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 cauti è un dato di fatto che Elia è stato rapito sul carro di fuoco portato in un luogo misterioso non è passato cioè il cadavere di Elia non c'è la bomba di Elia non ci sta non credo che sia come dire ragionevole per sfumare che siano glorificati senza passare attraverso la morte come la Madonna questo dico queste cose perché amici cari più aumentano gli anni e più aumenta come dire diciamo così l'esperienza e forse anche qualcosa da un punto di vista del sapere come diceva il buon Socrate su questo era veramente un grande più aumenta il sapere più aumenta il so di non sapere perché di Dio sono molti più i misteri completamente sconosciuti che quel poco che possiamo balbettare poi nella Sagra Scrittura non ne parliamo persone evidentemente molto più grandi di me anche i Santi Patri dicevano nella scrittura sono scritte una montagna di cose che nessuno ha mai capito noi con la nostra testa chiaramente da uomini pensanti per carità intelligenti io ho sempre detto che la testa dobbiamo far funzionare però su certe cose quando ci mettiamo di anzi all'altissimo dobbiamo fare uno step indietro perché non possiamo pretendere di scrutare o di indagare di divini misteri a noi ci sembra una cosa così che la scritta ha fa queste cose dentro la Bibbia se nessuno ci ha capito mai niente ci ha ancora capito niente a noi ma siccome Dio non fa cose inutili o non necessarie se è stato fatto così era perché si deve fare così noi non possiamo sondare il terci dinanzi alle opere di Dio cioè io raccomando a me in primis a tutti un'estrema umiltà l'umiltà io purtroppo ho ben poco da insegnare su questa virtù però certe forme di umiltà sono un atto di volontà in cui io decido dico stai buono fai un passo indietro datti una calmata aspetta sta zitto perché sta dinanzi a qualcosa che è enormemente più grande di te che ti sovrasta immensamente quindi prego Spirito Santo se ti arriva qualche lucetta e ci raccapezzi qualcosa ringrazio al Signore se no fai un passo indietro taci che è meglio detto questo andiamo un attimo io faccio prima una carrellata delle slide così vediamo un pochino la storia o meglio il percorso che ci attende e poi passiamo alla lettura dei testi come sempre che è la cosa più importante una lettura come sempre non di tipo di tipo come dire accademico ecco o eseggetico ma sempre in chiave catechetica no il contesto storico e il breve profilo biografico di Elia qui dobbiamo un attimo capire perché Elia vive al tempo del re Aqab sta nel regno del nord quindi nel regno di Israele non nel regno di Giuda Aqab con il suo predecessore era un re empio e la moglie Jezabele che è una sorta di demone incarnato era peggio di lui sappiate che Jezabele è pluricitata in testi di esorcisti di vario genere quindi pare che sia molto attiva nelle possessioni quindi ci trovereva di nanzi una dannaccia del genere insomma che fronteggia Allora contesto storico e breve profilo biografico la siccità è la vedova di Zaretta Elia il re Aqab e la sfida sul carbone è il 400 profilo di Baal questa è la più famosa la persecuzione di Jezabele e la teofania dell'Oreb la chiamata di Eliseo abbiamo chiaramente Elia santo e guerriero qui grande guerriero abbiamo Elia il mistico e poi abbiamo gli ultimi giorni di Elia il celebre visione della viglia di Nabot e il rapimento al cielo di Elia io direi di non stare a indugiare troppo di andare di corsa ai testi perché nel contesto storico l'abbiamo visto allora siamo nel secolo circa nono secolo avanti Cristo quindi siamo dopo Salomone e dopo Roboamo quindi al tempo di Acab andando a vedere nel nel libro dei re che se ritrovo l'applicazione slide diversamente quindi dopo la divisione quindi stanno Roboamo e Geroboamo c'è appunto questa scissione del regno uno va al nord uno va al sud ecco qui a un certo punto ci sono due regni proprio nel capitolo 14 del libro dei re cambio un attimo scusate il tipo di di condivisione ok scusate un attimino sono sbagliato andiamo di qua ecco bene allora scorro velocemente nel capitolo 12 così vi faccio un pochino vedere un po' di situazione perché ci sono i titoli della Bibbia di Gerusalemme che ci aiutano a capire abbiamo a un certo punto lo scisma politico e religioso Roboamo che è Sichem per essere programatore e Geroboamo figlio di Nebat che invece era fuggito del povero dell'Egitto eccetera eccetera no ecco e e quindi c'è la scissione di del regno questi due cominciano a fare la la guerra l'uno contro l'altro e sono riseriti che abitavano nelle città di Giuda regnò Roboamo mentre Geroboamo rimane nel regno del nord cioè in Israele nel capitolo 14 del primo libro del Reale si vede i due regni fino a Debia a Bia il figlio di Geroboamo si ammala e poi c'è Achia e poi si arriva attraverso varie successioni fino al capitolo 17 dove comincia il ciclo di Elia e c'è una piccola premessa che forse sarebbe bene da fare ecco Omri andiamo qui al a primo 16 28 si addormentò con i suoi padri fu sepolto a Samaria e fu il suo posto divenire suo figlio Acab questo è molto importante per capire il contesto storico e chi era questo Acab perché Elia esercita il ministero a tempo di Acab Acab figlio di Omri divenere su Israele nell'anno 38esimo di Asa di Giuda regno del sud Acab figlio di Omri regnò su Israele a Samaria 22 anni Acab figlio di Omri fece ciò che è male agli occhi del Signore più di tutti quelli prima di lui che è tutto dire non gli bastò di imitare il peccato di Geroboamo figlio di Nebat ma prese anche Mojezabele figlia di Etbaal re di quelli di Sidone si mise a servire Baal e a prostrarsi davanti a lui Baal tenete presente che Baal come abbiamo già visto con Moloch è un demone è il nome di un demone Baal tutti gli idoli cananei erano quasi tutti demoni capite? quindi non è che erano adorati gli idoletti nel senso che si adora l'idoletto cioè tu adori che ne so un pezzo di pietra no no dietro agli idoli c'erano i demoni questo che fa? è resta un altare a Baal nel tempio di Baal che egli aveva costruito a Samaria e adesso è anche il palo sacro e continuò ad agire provocando a segno il Signore Dio di Israele e più di tutti i re di Israele viene di lui ecco e a questo punto arriva Elia compare Elia allora andiamo subito a vedere chi è Elia vedete il nome di dove sta ok eccolo qua Elia già il nome stesso no il Tisbita Tisbita è una località quindi niente di particolare ma il nome stesso Elia eccolo in ebraico El in ebraico significa Dio Yah significa Dio Yah però tra l'altro c'è anche la V queste sono tre un attimo vediamo se riesco a evidenziarle sono tre delle quattro sillabe delle quattro sillabe quattro ladicani scusate del sacro tetragramma se qui ci mettiamo dietro un'altra Chet cioè questa qui facciamo il nome di Dio che è appunto Yahweh quindi Eliach in ebraico significa Dio è Yahweh oppure Yahweh è Dio cioè il compito di Elia sarà proprio quello di distruggere tutti gli idoli e di riaffermare il primato assoluto di Yahweh unico Dio del suo popolo e il nome stesso di Elia dice ciò che lui avrebbe dovuto fare prima cosa che fa Elia come fa Elia a cominciare a combattere e a scuotere Acab carestia Elia altisbita uno di quelli che siano stabiliti in Galad disse ad Acab per la vita del Signore di Urisere alla presenza e alla cui presenza io sto in questi anni non ci sarà né ruggiata né pioggia se non quando lo comanderò io ovviamente questo nel contesto biblico non è altro che un castigo divino finalizzato alla conversione e al ravedimento di Acab questo tanto per dirlo per quelli che dicono che non si stanno i castigli che Dio non castiglia poi però peccato che nell'antico testamento sono espressioni e gli castiga usa misicordia fa scendere negli abissi della terra fa risalire dalla grande corruzione però ci sono alcuni che io non ho sentito un altro un po' di tempo fa che dicono Dio non castiga e quindi in molti all'atto di dolore ancora lo fanno dire fanno il jump dice mio Dio mi pente e mi tolgo tutto il cuore dei miei peccati perché peccando ho peso te ho meritato i tuoi castigli non si deve dire più secondo certi anzi se qualcuno lo dice fa addirittura peccato d'accordo perché sta dicendo una sciocchezza sic a quanto pare figlioli miei cari solo però la storia biblica dice altre cose dice però questo è un forse per qualcuno un dettaglio del tutto secondario comunque andiamo avanti mentre c'è la carestia c'è la carestia c'è per loro ma chiaramente il profeta non cadrà nella sacrestia dice guarda dice il signore tu batti nei di qui dirigi di verso l'oriente nascondi di verso il torrente Kerit che è oriente del Giordano berrai dal torrente e i corvi per il mio comando ti porteranno da mangiare e gli partì e fece secondo la parola del signore i corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera e li berai dal torrente ci crediamo ovviamente non è una leggenda questa qui funzionava veramente così dopo alcuni giorni però il torrente si seccò perché non era piovuto sulla terra e che cosa fa? fu rivolto nella parola del signore ecco l'episodio che poi citerà Gesù nel Vangelo durante il discorso alla sinagoga di Nazareth alzati e va a Zaretta di Sidone episodio che questo conoscono in molti ecco io l'ho dato ordine a una vedova di sostenenti e gli si alzò andò a Zaretta arrivato alla porta della città una vedova raccoglieva la legna la chiamò e gli disse prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere mentre quella andava a prenderla le gridò e per favore prendimi anche un pezzo di pane e quella rispose per la vita del signore tuo Dio non ho nulla di cotto ma solo un pugno di farina nella gea un po' d'ora nell'orcio allora accorgo due pezzi di legno dopo andrò a prepararla per mio figlio la maniere e poi moriremo e gli disse non temere non temere al tirì vuoi vai vuoi asi fai prima una focaccia per me e portamela quindi prepararei per te per tuo figlio perché così dice il signore Dio la farina della gialla non si esaurirà e l'orcio non diminuirà nel giorno in cui il signore manderà la pioggia sulla faccia della terra quella andò e fece lo ha detto Elia poi mangiarono lei lui e la casa di lei per diversi giorni la farina della gialla non venne meno e l'orcio dell'orio non diminuì secondo la parola che aveva pronunciato il signore per me di Elia questa è la prima parte poi c'è anche la seconda il commento è abbastanza abbastanza facile perché su questo ci ha fatto una bellissima omelia nostro signore Gesù Cristo nel Vangelo quando andò a Nazareth perché cita questo episodio qual è il merito di questa grande vedova pagana qui siamo in Zarepta di Sidone Sidone non è territorio di Israele il territorio pagano questa si vede questo questo personaggio che gli dice di fare una cosa abbastanza impegnativa era rimasto un pugno di farina dice adesso noi ci mangiamo questo e poi moriamo nonno tu falla a me che non mori affatto se fai questo mangi per tutto il tempo della Palestina è l'unica che ha mangiato per tutto il tempo della Palestina lei è il io quindi l'episodio anche diamo sempre un taglio catechetico quando Dio ti chiede qualcosa apparentemente dice mappavo di impegnativo Dio non chiede mai a noi per prendere perché scusate un attimo figlioli i miei cari abbiate pazienza ma che forse Dio ha bisogno di qualcosa da parte nostra dice ma io se vendo tutti i beni ma che c'è fanno questo signore che bene cosa e cosa ci fa quando Dio ci chiede qualcosa qualunque cosa di ordine materiale fisico psichico morale spirituale vuole soltanto vedere tu chi sei perché se tu gli dai uno lui ti dà cento l'ha detto Gesù nel Vangelo chiunque avrà lasciato case riceverà cento volte tanto in questa vita e nel secolo futuro la vita eterna questa è la vita di fede amici cari è la vita di fede nel Vangelo quando Gesù dice non vi date pensiero per la vostra vita non ti sta preoccupare il mondo contemporaneo scusatemi è un cepanatesta come un pallone che tu devi controllare tutto devi preoccuparti di tutto tu devi debattare tu e le pensioni e le cose e gli impicci e la prevenzione delle malattie e il riscaldamento che caspita ne so che si vanno a pentare adesso in giro scusate l'anno scorso c'era la siccità no? tutti preoccupati che comunque con la siccità moriamo eccetera eccetera ora c'è l'acqua noi viviamo di fede e li lasciamo sta ci fidiamo del Signore e riposiamo in Lui la vedova di Saretta grande eroe oh che succede però che in seguito accade che il figlio della padrona di casa si ammalò e la sua malattia si aggravò tanto che io ce so dire questo è l'altro grande visore di Elia no? penso che molti lo conoscano allora lei si ad Elia che cosa c'è tra me e te o uomo di Dio guardate che bellissima espressione Isch ha Elohim chi è Elia? l'uomo di Dio con dovuto rispetto ogni sacro ministro in quanto tale è un uomo di Dio oggettivamente ma dovrebbe esserlo anche soggettivamente non solo un uomo di Dio perché avendo ricevuto l'ordine sacro quello quel potere c'era ma perché tutta la sua persona traspare ad essere un uomo di Dio l'uomo di Dio significa che appartiene a lui lo chiamerebbero gli eseggeti genitivo soggettivo e l'uomo di Dio significa l'uomo che ha Dio per Dio quindi non soltanto che gli appartiene ma che è tutto per lui porta solo lui alle persone e le persone porta a lui non a sé a lui Elia Yahweh è Dio e lui è l'uomo di Dio va bene sei venuto da me per ricordare il ricordo della mia colpa e far morire il mio figlio Elia le disse dammi tuo figlio il figlio della vedua glielo ho preso dal seno lo portò nella stanza superiore dove abitavo lo stesso sul letto quindi invocò il Signore Signore mio Dio vuoi fare del male anche a questa vedua che mi ospita tanto da farle morire il figlio si distese tre volte sul bambino e invocò il Signore Signore mio Dio la vita di questo bambino la vita attenzione in ebraico è Nefesh vediamo la traduzione antica ecco vedete la differenza che c'è a Cipicchia tra il 1974 l'anima e il 2008 la vita ovviamente la volgata San Girolamo non si sbaglia anima ovviamente la settanta il greco più che non si sbaglia eh amici miei cari non era l'anima di questo bambino torni nel suo corpo questa è proprio una risurrezione il Signore ascoltò la voce di Elia perché l'uomo di Dio Dio lo ascolta e la vita del bambino tornò nel suo corpo la vita ancora l'anima del bambino tornò nel suo corpo e quegli riprese a vivere Elia e lì aprite il bambino lo portò giù nella casa dalla stanza superiore lo consegnò la madre e Elia disse guarda Elia disse guarda tuo figlio e la donna disse Elia ancora ora so veramente che tu sei uomo di Dio e che la parola del Signore attenti nella tua bocca U Debar Adonai Bepikach è verità Emet U Emet Emet significa verità Emet attenzione da qui viene anche il nostro Amen perché Emet c'ha la radice di Aman non è una verità così è una cosa che è stabile salda in maniera incrollabile quindi l'uomo di Dio è accreditato da cosa dal fatto che Dio l'ascolta dal fatto che Dio si serve di lui per fare anche i prodigi e dal fatto che la sua parola è vera dice la verità l'uomo di Dio capitolo 18 oh questo è spettacolare la sfida contro i 400 profeti di Baal allora il Signore vedete che guida i passi del suo uomo dice Adelia va a presentarti ad Acab e io manderò la pioggia sulla forza della terra Adelia va convoca Acab convoca Abdiah temeva molto il Signore e quando Jezabele vedete questa tonnaccia uccideva i profeti del Signore Abdiah aveva preso 100 profeti e ne aveva nascosti 50 alla volta in una caverna aveva procurato loro pane acqua Acab disse ad Abdiah va nella regione verso tutte le sorgetti tutti i torrenti forse troveremo erba per tenere in vita cavalli e muli eccetera mentre Abdiah era in cammino ecco farglisi incontro Elia quello lo riconobbe e cadde con la faccia a terra dicendo sei proprio tu il mio Signore Elia gli rispose lo sono va a dire al tuo Signore c'è qui Elia quello disse ma che male ho fatto perché tu consegni il tuo servo in mano ad H per farmi morire per la vita del Signore tuo Dio non esiste nazione o regno in cui il Signore non abbia mandato a cercarti se gli rispondeva non c'è egli faceva giurare la nazione o il regno di non averti trovato ora tu dici va a dire al tuo Signore c'è qui Elia appena sarò partito da te lo spirito del Signore ti porterà in un luogo a me ignoto se io vado a riferirlo ad Acab egli non trovandoti mi ucciderà ora il tuo servo teme il Signore fin dalla sua rovinezza Elia rispose salta un pochino per la vita del Signore degli eserciti alla cui presenza io sto oggi stesso io mi presenterò a lui avvia ad Acab gli riferisce e Acab si diresse verso lì appena lo vide Acab disse a Elia sentite bello il primo scontro tra Acab e Elia se tu mandi rovina Israele Elia risponde non io mando rovina Israele ma piuttosto tu e la tua casa perché avete noto i comandi del Signore e tu hai seguito i Baal grande no avete abbandonato i comandi del Signore e tu hai seguito Baal perciò far radunare tutto Israele presso di me sul monte Carmelo sapete che i carmediani hanno Elia come patrono e hanno il motto di Elia zelo zelatus sum far radunare tutto Israele presso di me sul monte Carmelo insieme con i 450 profeti di Baal e con i 400 profeti di Asera che mangiano alla tavola di Jezabele Acab convocò tutti gli israeliti e radunò tutti i profeti sul monte Carmelo Elia si accostò a tutto il popolo e disse lo dice a loro e lo dice a noi bellissima ah ed è ogni volta che apre bocca è musica fino a quando salterete da una parte all'altra l'antica traduzione diceva fino a quando zoppicherete con entrambi i piedi la traduzione in questo caso del 2008 sembra sembra un po' migliore ma il verbo che è sapac significa certamente sia saltare ma anche appunto zoppicare sopra le due parti vabbè comunque se il Signore è Dio seguitelo se invece lo è Baal seguitelo lui non vi sembra allora guardate che questo discorso di Elia è di un'attualità sconcertante perché oggi uno dei problemi più diffusi che c'è in giro è che c'è gente che pretende di essere reputata cristiana cattolica quando la sua vita tutto è meno che uniformata alla legge di Dio e della Chiesa non vi sembra che anche dietro tanti tentativi qual è il più grande tentativo che adesso stanno cercando di fare e che stanno cercando anche di far ballare di far chiamare bene e male cioè non soltanto di minimizzare la gravità del male ma addirittura di riferire in una cosa buona il bene è il bene male è il male Dio è Dio Satana è Satana Cristo è Cristo direbbe dirà San Paolo Beliar è Beliar Yahweh Yahweh Baal è Baal il popolo non gli rispose nulla Elia disse ancora al popolo uno contro tutti ah bellissimo io sono rimasto solo come profeta del Signore mentre i profeti di Baal sono 450 e qui c'è la famosa poi sfida no due giovenchi dice facciamo due altari adesso le racconto un pochino la storia perché poi qui se no si si dilunga un po' troppo il Dio che appiccherà il fuoco e brucerà la vittima è quello vero caruccio accettano la sfida la proposta è buona Elia dice sceletevi il giovenco e invocate il nome del vostro Dio ma non appiccate il fuoco questi cominciano a Baal rispondici eccetera eccetera nessuno risponde questo è un passaggio divertentissimo venuto mezzogiorno Elia cominciò a farsi di loro dicendo ma gridate a gran voce perché è un Dio occupato è in affari o è in viaggio forse dorme ma se gridate più forte si sveglia e questi cominciano a gridare e si fanno incisioni secondo il loro costume con spada e lancia fino a bagnarsi tutti di sangue e passati al mezzogiorno passati al mezzogiorno quelli agivano ancora da invasati non tanto profeti fino al momento dell'offerta e del sacrificio ma non vi fu voce allora Elia dice basta con sta commedia adesso vi faccio vedere io che succede fa avvicinare tutti quanti a lui lui impara l'altare del Signore su quel monte che era stato demolito perché per essere profeti di Bar prese dodici pietre secondo il numero delle tribute figli di Giacobbe a quale era stata rivolta questa parola del Signore Israele sarà il tuo nome con le pietre è esso un altare nel nome del Signore scava intorno all'altare il canaletto dispone la legna scuola il giovenco dopodiché dice riempite quattro anfore di acqua e versatele sull'olocausto e sulla teglia lo fanno fatelo di nuovo fatelo per la terza volta quindi c'è un bagone di acqua e poi di nuovo si raccoglie in preghiera come già per la resurrezione del figlio della vedova di Isaretta Signore di Abramo Dio di Sacro Dio di Giacobbe oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto queste cose sulla tua Roma l'uomo di Dio è il servo di Dio agisce secondo quello che il Signore gli ordina di fare rispondimi Signore rispondimi e questo popolo sappia che tu Signore sei Dio che tu o Signore sei Dio e che converti il loro cuore vedete che tu Signore sei Dio qui c'è la sintesi del nome di Elia atta tu vedete il sacro tetagramma vi ho detto che il nome di Elia ha le prime tre partendo da destra a sinistra radicali e davanti ha aspettate che evidenzio soltanto L eccolo qua El e poi c'è eccolo qua Yacra quindi perché si sappia che tu che tu o Signore sei il Dio capite cioè che ciò che il mio nome è tu adesso lo fai vedere attraverso di me cadde il fuoco succede chiaramente e a tale vista che succede che tutto il popolo cade con la faccia a terra e disse Dio è il Signore lui è Dio Yahweh Hu Yahweh lui è Dio Yahweh Hu è Dio due volte e poi che succede questo non si può fare più nel Nuovo Testamento figlioli megani lo lì l'ha fatto allora i profeti di Baal non ne scampi neppure uno li afferrarono e Elia li fece scendere al torrente Chison dove li ammazzò tutti e 450 fine del problema Elia di Sadaka va a mangiare a bere perché c'è già il rumore della pioggia torrenziale fine della siccità arriva l'acqua Elia sale sul monte Carmelo eccetera eccetera e rinanzò la pioggia andiamo avanti perché al capitolo 19 cominciamo la sezione del Elia mistico Agab riferisce a Zabele tutto quello che aveva fatto e che ha ucciso di spada tutti i profeti non solo quelli di di Baal ma anche quelli di Astara che erano gli amici di Zabele e Zabele inviò messagerare per dirgli gli dèi mi facciano questo e anche di peggio se domani e quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro Elia impaurito da quel demone incarnato che era a Zabele si alza e se ne andò per salvarsi giunse a Bersabea di Giura lasciò il suo servo egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una girestra desideroso di morire disse ora basta signore prendi la mia vita perché io non sono migliore dei miei padri io vi riconfesso amici miei cari che questo passo della scrittura è uno di quelli che maggiormente porto nel cuore perché qualcosa di quello che è successo l'ho vissuto in certi momenti della mia esistenza e vi dico che vabbè meglio ci sono dei momenti nella vita di chi prova a stare dalla parte del signore che il peso di tutto quello che ti circonda il peso della diffamazione continua della calunnia della persecuzione della mormorazione del livore che ti viene manifestato della cafonaggine ti fa dire senti signora mia il santo Croo d'Arsa diceva fammi andare a rinchiudere in qualche posto a piangere i miei peccati e Ria dice guarda non ce la faccio più prendi la mia vita e si corica e si addormenta sotto la ginestra proprio il tipico gesto di chi è stanco e stacca un attimo la spina è solo che lì arriva l'angelo del signore dice guarda alzati e mangia lo fa mangiare dice una focaccia cotta su pietro lo venti un orcio d'acqua a cui ci stanno tutte le interpretazioni mistiche che non vi dico insomma del San Giovanni della Croce ha scritto delle pagine molto molto belle se non ricordo male su queste su queste cose proprio nella salita del monte Carmelo adesso a memoria non me le ricordo figli miei potrei andarle a vedere e dice torna la seconda volta alzati e mangia perché è troppo lungo per te il cammino si alzò mangiò e beve e con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al montere di Oloeb l'Oreb sapete che è la stessa cosa è l'altro nome del Sinai la entrò in una caverna per passarvi la notte quando ecco gli rivolta la parola del Signore in questi termini sentite che bello prima di consolarlo il Signore gli parla e gli fa dire gli fa tirare fuori il suo cuore dice che cosa fai qui Elia ecco il motto dei carmenitani sono pieno di zelo per il Signore Dio degli eserciti poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza hanno demolito i tuoi altari hanno ucciso di spada i tuoi profeti io sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita ecco la fotografia di Elia ma ecco anche la fotografia dei veri uomi di Dio non ci hanno paura di essere soli contro tutti non ci hanno paura sono pieni di zelo vedendo l'abbandono in cui ha lasciato il Signore però ogni tanto sentono il peso cioè del dover affrontare una battaglia cioè non ce la fai solo contro tutti e allora che succede esci e fermati sul monte della presenza del Signore quando sta in quei momenti io ve lo posso testimoniare il Signore viene non ti lascia da solo ci pensa Lui di consolarti attenzione il Signore passò ci fu un vento impetuoso e sgagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore cioè una manifestazione del Signore che assomiglia un po' allo spirito di Elia perché Elia era un ciclone ma in quel momento Elia non c'ha bisogno di sentire una cosa di questo genere il Signore non era nel vento dopo c'è un terremoto ma il Signore non era nel terremoto attenzione il terremoto rimanda alla teofania se ci ricordiamo di Diaveso Sinai che tremava tutto quanto il monte a dimostrazione della sua forza della sua potenza dopo il terremoto ci fu un fuoco la corona di fuoco che camminava davanti a Israele nella notte il Signore non era nel fuoco e dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera bellissimo col sussurro è puce de mamà dakakh letteralmente sarebbe la voce di un silenzio o di un bisbiglio basso piccolo bellissima la traduzione della bugata Sibilus Aure Enuis un sibilo quindi un sussurro di un'aura tenue ma de mamà significa letteralmente proprio calma silenzio la voce quindi capite manifestazione di Dio in quella carezza in quella dolcezza che si incontra nel silenzio quindi capite che è importante il silenzio per entrare in contatto con il Signore con la sua manifestazione il suo volto più autentico il grande Elia il fuoco vivo deve sentire questa carezza dell'altizia come Nudi Elia si coprì il volto con il tello uscì e si fermò nell'ingresso della caverna e l'altra volta viene una voce che gli dice che cosa fai qui e lì vedete che glielo farei dire un'altra volta e lui risponde la stessa cosa sono pieno di zero in ebraico è stupendo cano kinetì questa costruzione qui c'è un infinito PL e c'è una prima persona perfetto sempre del verbo PL attenzione che il PL è in ebraico la forma verbale intensiva cioè se io dico ecco avere zelo significa il verbo kana essere geloso ma la forma intensiva è sono gelosissimo e se tu ci metti davanti l'infinito assoluto è proprio che più di questo non si può guardate che quando nel libro della Genesi mi pare che l'abbiamo visto quando Dio dice ad Adam ed Eva guarda non v'azzardate a mangiare dell'albero perché altrimenti certamente morirete usa la stessa espressione cioè il verbo morire mot nell'infinito e seguito dalla coniugazione alla seconda persona plurale imperfetto morirete il futuro nella definizione ebraica è il verbo imperfetto uguale e quando il diavolo li va a tettare e dice no non mi ha fatto stessa espressione verbale quindi non è che sono proprio stravieno mi scoppia il cuore per questa cosa gli israeliti hanno abbandonato la tua allenanza hanno demonito i tuoi altari hanno ucciso di spare i tuoi profeti sono rimasto solo essi cercano di trovare la vita e Dio che risponde su coraggio e stavolta è il Signore che parla Adonai ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasc giunto là ungerai Cazzael come reso Aram poi ungerai Yeu figlio di Ninsi come reso Iraele ungerai Iseo figlio di Safat di Abel Mecolà come profeta al tuo posto se uno scamperà alla spada di Cazzael lo farà morire Yeu se uno scamperà alla spada di Yeu lo farà morire Eliseo io poi riserverò per me in Israele 7000 persone attenzione chi sono tutti i ginocchi che non si sono piegati a Baal e tutte le bocche che non l'hanno basato e ti va anche in mezzo a tanta squallore c'è il famoso piccolo resto fedele 7000 persone che non si sono piegate e prostrate a Baal e attenzione in questo contesto proprio in questo contesto compare l'unzione a chiamata di Eliseo e come fa a chiamare Eliseo che arava con 12 paia di buone gli getta addosso il suo mantello espressione perché il mantello nell'antico testamento ecco perché sapete che una volta i sacerdoti specialmente d'inverno andavano in giro a intuare mantello e cappello romano era la divisa obbligatoria adesso non si prende più nessuno neanche la veste italare figuriamoci il mantello e il cappello romano che è un accessorio vabbè ma il mantello è un indumento di una significatività estrema ricordate quando Gesù guarisce il cieco nato balza in piedi getta il mantello e si mette a seguirlo il mantello è l'identità profonda della persona il cieco che lascia il mantello vuol dire che si scrolla e lascia dietro le spalle la sua vita di prima Elia che getta il mantello su Eliseo gli sta dicendo tu sarai un altro a me stesso e lui capisce benissimo lascia i buoi e corsi dietro a Elia dicendogli andrò a baciare mio padre e mia madre e poi ti seguirò e Elia disse vai e torna perché sai che cosa ho fatto per te qui i direttori attenti riconosceranno la differenza quando Gesù chiama invece il suo posto dice permettimi prima di andare a salutare mio padre Gesù non glielo permette la differenza tra l'Antico e il Nuovo Testamento quando arriva Gesù non c'è tempo per questo si segue lui e basta l'altro episodio può essere che ce la facciamo a finire forse sì è la famosa vigna di Nabot dopo l'invenzione dopo la chiamata che cosa succede succede che a un certo punto ve lo racconto adesso vedremo vedremo qualcosa Acabe si mette in testa di voler acquisire per forza la vigna di un povero disgraziato che non c'aveva nient'altro era la vigna di famiglia gliela voleva comprare e questo gli dice di no Acabe si stranisce va da quel demone incarnato che era di Isabella e gli dice ti preoccupare ci penso io a darti la vigna di Nabot sta tranquillo e che cosa fa versetto 7 dice alza di mangi del tuo cuore e gioisca la farò avere io la vigna di Nabot di Israel e che cosa fa scrive delle lettere con il nome di Acabe guardate Satana le sigilla e scrive il bandito un digiuno fate sedere una botta alla testa del popolo di fronte a lui fate sedere i tuoi uomini per fersi e l'accusi no è maledetto di il re quindi conducetero fuori e lapidate e gli muoiono gli uomini insomma fanno così giunsero questi uomini perversi accusano Nabot lo condussero fuori lo lapidarono e muoiono dopodiché dicono Jezabele Nabot è morto allora Jezabele dice vai ma rendi lo sesso della vigna di Nabot di Israel il quale rifiutò di dartela in cambio di denaro perché Nabot è morto Acab si alza ma che succede sorpresa la parola del Signore fu rivolta è lì e ti svita scendi incontro ad Acab e Israele che abita a Samaria ecco è nella vigna di Nabot dove è scesa a prenderne possesso poi parlerai a lui dicendo così dice il Signore hai assassinato e ora usurpi gli dirai anche così dice il Signore nel luogo dove rambirono il sangue di Nabot i cani lambiranno anche il tuo sangue sorpresa vedete i tiranni che pensano di fare il bello e il cattivo tempo e poi di farla franco no? franca Acab disse Elia mi hai dunque trovato il mio nemico si ti ho trovato perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore ecco io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via sterminerò ad Acab ogni maschio schiavo libero in Israele renderò la tua casa come la casa di Geroboamo figlio di Nebo perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele e anche riguardo a Gesabele parla il Signore dicendo i cani divoreranno Gesabele nel campo di Israele in realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab perché sua moglie Gesabele l'aveva estigato commise molti abomini seguendo gli idoli come avevano fatto gli amorrei che il Signore la scacciò davanti agli israeliti quando sentite le parole attenzione Acab si tracciò le vesti indossò un sacco suo corpo e digiunò si coricava con il sacco e camminava a testa a basso vedete? il peccatore indallito viene minacciato di essere severamente castigato si umilia e che succede? la parola del Signore fu rivolta lì al Tisbita hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? poiché si è umiliato davanti a me non farò venire la sciagura durante la sua vita la farò venire durante la sciagura del figlio andiamo un pochino avanti e andiamo a vedere nel secondo libro dei re il rapimento al cielo di Elia proprio così riusciamo a concludere il suo ciclo con oggi ci abbiamo qualche minuto ancora eh rapidamente proprio due minuti ma ce la dovremmo fare allora ci stanno Elia ed Eliseo è arrivata l'ora l'angelo del Signore disse a Elia e al capitolo 2 questo è l'ultimo episodio della vita terrena di Elia quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia questi partì da Gagara con Eliseo Elia disse Eliseo rimani qui perché il Signore ti manda fino a Betel Eliseo dice dispose per la vita del Signore per la tua stessa vita non ti lascerò scendono a Betel i figli dei profeti che erano a Betel andarono incontro di Eliseo gli dissero non sai che oggi il Signore ti porterà via il tuo Signore al di sopra della tua testa e gli risposero anch'io tacete Eliseo rimani qui eccetera eccetera i figli dei profeti si avvicinano la stessa cosa si fermano a distanza Elia prese il suo mantello l'arrotolò e percosse le acque che si divisero di qua e di là come i tempi di Giosuè loro due passavano sull'asciutto appena furono passati Elia disse a Eliseo domanda che cosa si deve fare per te prima che sei portato via da te due terzi del suo spirito siano in me risponde Eliseo soggiunse tu pretendi una cosa difficile sia per te così se mi vedrai quando sarò portato via da te altrimenti non avverrà mentre continuavano a camminare ecco qui conversando con carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposeva tra loro due Elia salì nel turbine verso il cielo Eliseo guardava e gridava padre mio padre mio e carro di Israele dei suoi destri non lo vide più allora afferrò le proprie vesti e lascerò in due vesti quindi raccolse il mantello che era caduto ad Elia e tornò indietro fermandosi ad Elia del Giordano se lo videro di fronte i figli dei profeti di Gerico e dissero lo spirito di Elia è posato su si è posato su Eliseo ma di questo parleremo la prossima volta quindi già detto che questo misterioso ravimento di Elia è uno dei misteri aperti il Signore si era portato il carro di fuoco nel cielo e non si sa dove sta ecco forse siamo andati un pochino troppo velocemente chiedo perdono però credo che siamo stati enormemente edificati dalla vicenda di questo che è stato il primo sapete che Elia era uno di quelli presenti alla trasfigurazione insieme a Mosè ed è stato anche se non è numerato tra i profeti maggiori senza dubbio come dire ciò che il profetismo in Israele rappresenta ha trovato in Elia il precursore e assolutamente l'antesignano bene amici appuntamento alla prossima volta e che Dio benedica la Madonna vi protegga e che Dio